La Puglia e il governo centrale collaboreranno per utilizzare al meglio le risorse nazionali ed europee. Il piano per il sud non può prescindere dalla collaborazione fra le regioni e lo Stato per permettere al mezzogiorno di ridurre il gap infrastrutturale con il resto d'Europa e soprattutto per evitare che i soldi messi a disposizione tornino a Bruxelles senza essere stati utilizzati. E così i due rivali di sempre, Raffaele Fitto e Niki Vendola, hanno firmato la pace nel nome del bene della loro Puglia. Il faccia a faccia per permettere al ministro per i rapporti con le regioni di illustrare il progetto del governo per razionalizzare l'utilizzo dei fondi ed evitarne la dispersione si è concluso dunque con la volontà di fare fronte comune. Abbiamo il dovere di collaborare, guai se in questo momento noi pensassimo di porci di fronte a l'autorità di Bruxelles con una logica di rissosità senza far prevalere la visione del sistema paese. Anche perché in questo momento in Europa il clima è di assoluta conflittualità su quello che sarà il futuro portafoglio della spesa comunitaria e qualunque errore nostro, anche se posso dire così stilistico nel modo di presentarci, lo pagheremo caramente. Abbiamo il dovere di collaborare. Sul tavolo c'è un bel gruzzolo da utilizzare, a cominciare dai 151 milioni non usati con i FAS 2000-2006 per finire con gli 800 milioni da rendicontare entro la fine dell'anno della nuova programmazione. È un tema sul quale c'è bisogno di fare alcune valutazioni che le nostre strutture faranno insieme rispetto a questi obiettivi perché penso che il risultato finale sia quello di modificare complessivamente l'attuale architettura dell'utilizzo delle risorse comunitarie e FAS. Questo riguarda come problema l'intero mezzogiorno, affermare che l'efficacia e l'utilizzo di queste risorse sia stata positiva e affermare qualcosa che non corrisponde alla regola. Dire che va tutto male non sarebbe nemmeno altrettanto corretto. C'è la necessità di modificare il modello di governance, come queste risorse si integrano fra di loro e diventano più efficaci. Entro la fine di febbraio il ministro completerà la fase di verifica per poi permettere di passare a quella successiva con un elenco delle opere da realizzare.